Ciao, sono Erika D'Amico, sono ricercatrice all'Università di Urbino, mi occupo di cinema, fotografia e televisione. Il mio consiglio per la lettura è di cosa parliamo quando parliamo d'amore di Raymond Carver, perché trovo che questa lettura sia estremamente attuale, risponde alla domanda delle domande o forse pone un'altra domanda sulla domanda delle domande. Quindi leggete Raymond Carver. Un altro consiglio velocissimo che vi do è sicuramente un libro che un po' mi ha cambiato, è Il Piccolo Principe, questo è piuttosto gigione, piuttosto popolare, ma è un libro che ci ricorda di tornare alle cose semplici e in questo momento mi sembra che ne abbiamo un sacco bisogno. Quindi Piccolo Principe, di cosa parliamo quando parliamo d'amore di Raymond Carver.